Continua l'alerta rossa per la Calabria e il sud Italia. Sul nostro territorio, da quanto emerge dalla protezione civile, sono caduti fino ad ora 40 mm di acqua che hanno provocato danni nei comuni del territorio. A scandale un uomo si è ferito al volto per chiudere una finestra aperta dal vento e è stato portato in ospedale per essere curato. A Cutro danni ingenti anche ad un'azienda la Idroimpianti Le Rose, alla Villa Comunale, all'azienda di Cereari di Letto, a Papanice il crollo di un tetto, ad Isola di Caporizzuto tanti tetti sono stati divelti, a Corazzo la tromba d'aria ha divelto il tetto della chiesa di Sette Porte, tanti gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte, anche a Crotone danni in tutte le vie per la caduta di alberi, anche su automobili parcheggiate. Il problema crotonese comunque è quello del fiume Esero che attraversa vari quartieri della città, un fiume che dalle immagini che stiamo mandando in onda ci fa capire quanto sia urgente la pulizia dei corsi d'acqua e dei canaloni, così come richiesto dalla prefettura. Pioggia e vento durante tutta la notte, bombe d'acqua anche questa mattina. In diverse zone sono cadute antenne e i vigili del fuoco sono intervenuti senza sosta. L'alerta rossa dunque fino a domani mattina alle 5, ma i dati della protezione civile confermano che l'ultima cella temporalesca è stata caratterizzata da quella che si chiamava Dawnburst, cioè un vento di caduta collegato alla precipitazione ma ad andamento lineare, a differenza dei tornado che sono a vortice con velocità di oltre 100 km orari. Grazie a tutti.